Non puntare a fare meglio degli altri, punta a farlo in maniera originale, unico e meglio di migliore. Vuoi la magia? Vuoi che ti dia la formula magica anche in questa pillola? Se fai qualcosa, aggiungi l'ingrediente in più che sei tu. Tu aggiungi quel qualcosa di creativo che sai fare solo tu, per il tuo pubblico, i tuoi clienti, i tuoi alunni e... C'è sempre qualcuno che l'ha fatto meglio di te, prima di te o che migliorerà quello che hai fatto tu. L'unica cosa che non può fare questo qualcuno è essere te. E allora, quando un'allieva mi dice, ma io non la rifaccio questa improvvisazione perché l'ha già fatta lei, ma questo personaggio l'ha già fatto lui, ma tutto è già stato fatto. Come però lo farai tu? Sarà originale. Mettici quel qualcosa in più, quel qualcosa che ti distinguerà e noi tutti ricorderemo il tuo personaggio, anche se l'hanno già fatto altre 20 persone. E questo modo di fare dal teatro passa facilmente alla vita. Mettiamo che tu voglia aprire un bar in una zona, tanto per metterti in estrema difficoltà, dove ce ne sono almeno già altri 50. Non puoi aprire ed essere il migliore subito. Loro hanno già i loro clienti e tu, al massimo la tua tenera nonnina che porta con sé le sue due amiche. Allora diventa unico, diventa particolare. Per essere unico, devi dare di più. Per essere unico, devi faticare di più. Vedrai che se prima dai, poi riceverai.